De Martino dimentica Belen con una modella? Le foto di Chiara Scelsi Nuovo amore per Stefano De Martino? Stando alle foto esclusive che ha pubblicato Chi in queste ore, sembrerebbe proprio che l'ex marito di Belen Rodriguez abbia ritrovato il sorriso accanto ad una giovanissima modella. De Martino dimentica Belen con una modella? Le foto di Chi. Fino a poche settimane fa erano in tanti ad ipotizzare un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i giornali di gossip erano i primi a raccontare di un corteggiamento serrato che il napoletano stava facendo all'ex moglie per provare a riunire la loro famiglia. Oggi, a distanza di un po' di tempo e dopo il no della showgirl, il ballerino di Amici pare abbia voltato pagina accanto ad una ragazza molto conosciuta nel mondo della moda, la 22enne Chiara Scelsi. A confermare la frequentazione in corso tra l'ex inviato dell'Isola dei Famosi e la testimonial di Dolce e Gabbana sono alcune foto esclusive che il settimanale Chi ha pubblicato in queste ore. Gli scatti che i paparazzi sono riusciti a rubare ritraggono il 29enne a Milano mentre passeggia con quella che sarebbe la sua nuova fiamma e il cane di lei, la coppia è stata sorpresa dai flash prima in auto e poi per le vie della città a tarda notte. Precisiamo che nelle immagini che ha reso pubbliche le rivista scandalistica, non c'è nessun bacio o gesto particolarmente affettuoso tra Stefano e Chiara ma, conoscendo la riservatezza di lui, sembra strano che si faccia beccare in compagnia di una ragazza che è una semplice amica. Osservando i gesti che De Martino sta facendo in questi giorni su Instagram, i più attenti hanno notato che sono diventati all'ordine del giorno i Mi piace che lui e la Scelsi si scambiano. Pare, inoltre, che la modella commenti spesso e volentieri i post del partenopeo, l'ultimo è un emoticon con gli occhi e coricino sotto ad un video in cui l'ex di Belen indossa uno smoking e poi rimane in boxer per promuovere un brand di biancheria intima. Dopo Gilda Abbrosio, un'altra modella per Stefano De Martino? Se tra Stefano De Martino e Chiara Scelsi c'è un flirt in corso, è presto per dirlo, risalgono a pochissimi giorni fa le prime foto che i paparazzi sono riusciti a fare a quest'inedita coppia. La frequentazione tra il ballerino e questa modella 22enne, comunque, sembra confermare la passione che lui ha scoperto di avere nei confronti del mondo della moda, dopo la separazione da Belen Rodriguez, infatti, l'unica ragazza accanto alla quale si è fatto immortalare il napoletano è stata l'indossatrice e stilista Gilda Ambrosio. Per quasi un anno e mezzo tutti i giornali di gossip hanno considerato la partenopea la nuova fiamma del ballerino di amici, anche se entrambi hanno sempre etichettato il loro rapporto come un'amicizia speciale che non è mai sfociata in un fidanzamento ufficiale. La rivista Chi, qualche settimana fa, ha fatto sapere che il legame tra Stefano e Gilda si sarebbe incrinato a causa dell'avvicinamento di lei ad un modello di nome Mark, è da un po' di tempo, infatti, che i due insperabili ex non si fanno vedere insieme nonostante abbiano tanti amici in comune. Messe da parte le storie con la Ambrosio e l'Aro di Riguez, è accanto alla giovane Chiara Scelsi che De Martino sta provando a riaprire il suo cuore.